Musica Ultimo giorno per approvare la finanziaria, deputati in aula all'Ars. Mafia Catania, usure e distorsioni, testimone di giustizia denuncia, sei arresti. Grande partecipazione ieri ad Astra per la quarta edizione del Trofeo del Mare. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è lunedì 29 febbraio. Come avete sentito nei titoli, ultimo giorno per approvare la finanziaria, deputati in aula, in scena, numerosi scontri. Mancano ancora 7 articoli più 4 norme tecniche per approvare la finanziaria. Oggi è l'ultimo giorno utile, deputati in aula. Oggi i lavori sono iniziati con l'ennesimo scontro sull'articolo 6, prelevato e nuovamente accantonato. Il Governo annuncia una riscruttura del sistema di cofinanziamento dei programmi comunitari dal quale dipende la spesa dei fondi comunitari. Altro scontro sull'articolo 7. La norma preleva 127.850.000 euro dal Fondo per la Sanità. Si tratta di una parte consistente dei risparmi ottenuti dal sistema sanitario, un prelievo in controtendenza rispetto alla norma nazionale che stabilisce che i risparmi ottenuti in sanità vadano reinvestiti sempre in sanità. Ma la Sicilia non è in grado di pagare le rate dei propri muti e Roma su questo fronte ha detto di no e quindi non resta che prelevare i soldi dalla sanità. Un prelievo che di fatto stopperà l'uso di nuovi farmaci e probabilmente impedirà anche l'avvio dei concorsi. Con questo articolo si blocca lo scorrimento delle graduatorie e le indizioni di nuovi concorsi almeno fino a quando non arriveranno nuove risorse. Il presidente di Anci Sicilia Giovani Maurizio Logalbo dopo varie interlocuzioni intercorse in commissione bilancio ed affari istituzionali esprime soddisfazione per l'approvazione nella finanziaria regionale dell'emendamento che salverà i precari di tutti i comuni siciliani. L'intervista. Noi esprimiamo soddisfazione rispetto all'approvazione dell'emendamento che proroga tutti i precari della Sicilia anche perché riteniamo che hanno dei ruoli nevralgici all'interno degli uffici comunali e che ci sarebbe stato un vero e proprio tilt per quanto riguarda la burocrazia siciliana e quindi questo è un ottimo risultato che si è potuto ottenere. Inoltre esprimiamo anche un ringraziamento a tutti i deputati dell'Assemblea regionale siciliana che con un voto unanime hanno dato la possibilità a quei comuni che si trovano in serie difficoltà economiche come Bageria, Gusta e altri 12 comuni in distesso finanziario di avere la priorità nella proroga e nella futura stabilizzazione. Ricordiamo a tutti che il punto cardine era la proroga perché una volta non effettuata la proroga sarebbe stato interrotto il rapporto di lavoro e quindi venivano licenziati automaticamente tutti quanti i precari. Intanto prendiamo la buona notizia della proroga di almeno un anno e sicuramente ci metteremo al lavoro per poter interpretare la legge del dettato statale e quindi capire come poter recuperare queste somme. Voltiamo pagina. Carini, sequestrati beni per il valore di oltre un milione di euro all'imprenditore Giacomo Loduca, già condannato per associazione mafiosa. Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo a Giacomo Loduca, 62 anni, già colpito nel 2011 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'operazione Codice Rosso. Loduca, ritenuto socialmente pericoloso ed indiziato di appartenenza alla famiglia mafiosa di Carini, è stato condannato a nove anni di reclusione perché ha ritenuto responsabile insieme ad altri soggetti, tra cui Calogero Giovan Battista Passalacqua, di associazione mafiosa e di tentata estorsione aggravata e continuata. Le indagini economico-patrimoniali svolte alla DIA, coordinate al procuratore aggiunto Dino Petralia, coordinatore del gruppo misure di prevenzione della locale procura distrettuale antimafia, hanno permesso di accertare la sproporzione esistente tra il valore delle disponibilità e redditi dichiarati da Loduca. Con il provvedimento sono stati sottoposti a sequestro immobili, fabbricate ville e terreni, complessi aziendali, conti correnti e autovetture per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Lunghe e complesse le indagini per risalire a tutti i beni di Loduca, l'inchiesta venne avviata dopo il suo arresto e la ricostruzione della pericolosità sociale del personaggio in relazione alle sue frequentazioni e vista la sproporzione fra il reddito noto e dichiarato il patrimonio accumulato. Mafia a Catania, usure ed estorsioni, testimone di giustizia, denuncia in manette esponenti dei clan Ceusi e Mazzei. Un testimone di giustizia denuncia i suoi stortori, sei arresti a Catania, in manette Rosario Piacenti di 49 anni e la madre Salvatrice Viola di 66, tutte e due inseriti nel clan Ceusi e poi Sebastiano Nuccio Mazzei di 44 anni, figlio del capo mafia santo Ucar Cagnusu, Franco Raciti di 49 anni, sorvegliato speciale, Lucio Stella di 41, in atto detenuto per altra causa, tutti e tre del clan Mazzei e Sebastiano D'Antona, 44 anni, vicino a Laudani. L'inchiesta Nero Infinito riguarda la storia dell'imprenditore Antonio Chiaramonte, inserito nel campo della ristorazione e gestore di una sala da ballo, poi produttore cinematografico, diventato un testimone di giustizia. Finito nel mirino della potente cosca dei piacenti per via di un prestito usuraio che nel 2004 era stato quantificato, interessi compresi, in 600 mila euro a fronte di un prestito di 200 mila euro. Strozzato dai debiti, Chiaramonte si rivolge a Franco Raciti, uomo di fiducia dei Mazzei, che sistema la questione con i piacenti, bloccando gli interessi, ma pretendendo per il suo clan, da Chiaramonte, denaro sotto forma di estorsione per le attività che l'imprenditore gestisce, poi la denuncia e oggi gli arresti. Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul MUOS di Niscemi. La misurazione delle emissioni deve essere completata ad impianto funzionante. La relazione finale presentata dal Collegio di Verificazione, chiamato ad esprimersi, sull'effettiva nocività delle emissioni generate dall'impianto MUOS di Niscemi, secondo il CGA per la Regione Siciliana, non è esaustiva. Nell'ordinanza dello scorso venerdì, l'Organo di Giustizia Amministrativa ha disposto che il Collegio di Verificazione completi la misurazione in loco delle emissioni prodotte dall'impianto in funzione, come già deciso in una precedente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, e fissa come termine per la consegna della relazione integrativa il 24 marzo prossimo. Era questo uno degli aspetti sui quali avevano più insistito il Collegio difensivo delle associazioni ambientaliste del Movimento NOMUOS Sicilia e di privati cittadini, intervenuti nel ricorso contro il Ministero della Difesa, favorevole all'installazione del sistema di comunicazione militare. Il CGA ha inoltre sottolineato la necessità che il Collegio dei Verificatori prenda motivata posizione sulle obiezioni presentate dai consulenti tecnici delle parti in giudizio. Sono state invece rigettate, perché ritenute prive di fondamento, le critiche di mancanza di terzietà e carenza di professionalità rivolte dalle controparti alla composizione del Collegio di Verificazione. La prossima udienza è fissata per il 14 aprile. La minoranza al Consiglio Comunale di Bagheria ha presentato una proposta, respinta dalla maggioranza, per istituire una commissione d'indagine sull'abusivismo edilizio. Ascoltiamo il consigliere Filippo Tripoli. La commissione d'indagine secondo me poteva essere una cosa molto utile, perché poteva servire realmente a proporre delle soluzioni sull'abusivismo edilizio, sia a livello locale che a livello regionale, ma soprattutto indagare anche se, sia nelle passate amministrazioni, quindi Sciortino, Lomeo e anche nella presente 5, ci siano stati degli amministratori o chi ha avuto ruoli di rilievo che ha cercato di sanare l'insanabile a scapito dei cittadini onesti che invece cercano di rispettare la legge. Calcoliamo che questa amministrazione ha mandato 11 ordinanze di demolizione a dei liberi cittadini per ovviamente non avere rispettato la legge. È quanto mai strano che a dei liberi cittadini vengono mandate delle ordinanze di demolizione e invece poi scoprire, grazie anche a un servizio giornalistico a livello nazionale, che ci sono stati degli amministratori che possibilmente cercavano di sanare l'insanabile. Ovviamente questo non c'entra nulla con l'abusivismo edilizio degli anni 70, 80 e 90. La domanda che ci facciamo in tanti è chiudere la stalla dopo che voi sono scappati. Che senso ha? A cosa può portare un'indagine amministrativa? Altra cosa sarebbe un'indagine giudiziaria. A quali risultati può portare un'indagine amministrativa a distanza di anni rispetto a quando si sarebbero svolti i fatti? La Commissione, come ho detto in precedenza, può proporre delle soluzioni, ma per quanto riguarda l'indagine, dato che è il momento 5 Stelle sia in campagna elettorale che in questo anno e mezzo si è autoproclamata come l'amministrazione della legalità e della trasparenza, sarebbe opportuno rendere un servizio ai cittadini onesti bagheresi e sapere realmente, così come più volte ha affermato il sindaco 5, rivolgendosi alle passate amministrazioni che sono state sostanzialmente le cause dello sfascio della città di Bagheria, se ci è stato qualcuno che ha abusato del proprio ruolo. Nel fine settimana la Sicilia è stata sferzata dal forte vento di Scirocco, disagi danni e disagio a Messina. Diversi gli alberi e pali caduti, cassonetti rovesciati e le auto danneggiate. Nei villaggi di Galati Marina a Santa Margherita le mareggiate hanno raggiunto la stata alle 114 ed è stato chiuso il porto di Tre Mestieri che per l'ennesima volta si è insabbiato. A Palermo tre grossi arbusti sono finiti in strada, per fortuna nessun ferito. I vigili del fuoco hanno affrontato ore di super lavoro per mettere in sicurezza lamiere e pali dell'illuminazione pericolanti in corso Vittorio Emanuele e via Giuseppe di Vittorio. A causa del forte vento è anche divampato un rogo di sterpaglie in via Castellana. Disaggi anche in provincia, soprattutto a Termini Merese dove in piazza Crispi un grosso arbusto è stato abbattuto dal vento. Questa mattina a Palermo all'aula circolare di giurisprudenza di Nera Yunus, testimone ed ospite di Amnesty International, vice direttrice della ONG Azzera, Istituto per la Pace e la Democrazia, ha parlato della vicenda dei genitori Leila ed Arif finiti in carcere per avere rivendicato con l'organizzazione da loro fondata il diritto del popolo a zero alla democrazia e alla pace, in particolare con l'Armenia con cui da 15 anni l'Azerbaijan è stato di guerra per contese territoriali. Grande partecipazione ieri ad Aspera per la quarta edizione del Trofeo del Mare. Le interviste. Siamo soddisfatti, è una sensazione molto bella, è un connubio fra sport e territorio che ci permette di far conoscere questa località che è una perla sul Golfo di Palermo che merita questa attenzione. Insieme a Tommaso Ticali che è l'organizzatore effettivamente della gara, noi ci mettiamo sempre a disposizione per far sì e per far arrivare tanta gente qui sul nostro territorio di Aspera e quindi di Bagheria e far conoscere la nostra bella frazione. L'Aspra piano piano deve diventare quella che per noi è appunto la perla della città. ci stiamo puntando, ci stiamo lavorando e per questo insieme alla circoscrizione si è instaurato un rapporto di collaborazione che con il coinvolgimento dei cittadini vuole appunto portare ad un obiettivo fondamentale, cioè quello di rendere Aspera più vivibile, più bella e questo si può fare soltanto se politicamente e dal punto di vista della dialettica appunto della collaborazione fra la circoscrizione e l'amministrazione c'è un rapporto che attualmente c'è di collaborazione, di scambio di idee ed è fondamentale anche il confronto con il cittadino. Il percorso era piatto, tranne c'era un po' di vento che dava un po' fastidio, la gara è stata... Quando sei andato in solitaria ci è perso di capire? Sì, sì, ho fatto il ritmo subito io, correvo fino a 3.000, un ritmo da 3-5 km, poi ho avuto un po' di pesantezza alle gambe e ho rallentato un po' il ritmo. Ecco, però gli altri inseguitori non sono mai riusciti a impensirirti veramente? No, 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 siccome c'era il giro di Boa, ritorno, diciamo che vedevo che il distacco era... Sì, sì, quindi diciamo già non ho avuto problemi se riuscivano a prendermi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.